buongiorno buongiorno ma nonno dov'è in after come in after che vuoi in after ma stai in after o no ma stai in after davvero guarda stai in after mamma mia ma come mai stai in after ma uno in 94 anni può stai in after di venerdì mattina ma io fai quel che cazzo mi pare e poi e poi e vaffanculo e dopo e adesso vaffanculo l'altra volta hai capito e poi e poi cazze mie e dopo ancora vaffanculo ma perché dai si sta tanto bene questa ma da sciacqua dico io ma perché perché si quando sei bellino ma io tu mi senti cazzo no bollo dal caldo e tu questa fa comunque da quando stai in after è cambiata che fa l'after si fa la nafta eccolo il gattino che io facciamo stati dal veterinario e ci ha detto che se c'è qua una gatta che sta allattando ora lo può inserire nella cucciolata perché i gatti comunque accettano anche altri gatti perché noi ci stiamo fai vedere col biberon come fa col biberon ma non è facile quindi eccolo adesso piano piano eccolo eccolo vedete come fa col latte quindi se ci fosse una cucciolata di gatti fate sapere a mia madre chiaramente non a milano qua vicino un'umbria nei dintorni di bastia insomma ecco guardate quanto è carino e quello la voleva ammazzare dopo quello riprendi allora ora pubblicherò una storia abbiamo fatto un po di tempo fa uno scherzo a una persona quindi state attenti alla persona che ormai conoscete anche una brava persona però guardate scusi lei si si dico lei non guardi così perché sto dicendo lei ne lo so benissimo che sto dicendo lei non sto dicendo nessun altro del tavolo ma tutta questa pasta ripastata rigatoni e rigatonati con doppio pisello ripisellato che dieta è quella che mi fai cazzo e poi e dopo tu fai due e poi e dopo la giapponcura oh tutti aspettavamo questo eh sì o no eccolo attenzione sta per arzugare arzugare arzughe che arzughe o no che arzughe ma che arzughe ma che arzughe perché è un bel ancora stai a mettere queste ma sei tutto scemo ma insomma sei simpson ma che sono i simpson ma che è simpson e quel simpson guardali è bello eh guarda è bello quanto è bello che scemate è bello è bello è bello o no è bello legali è bello chi è stato chi è stato a fare questo casino casino eh chi chi è stato fa la cuccia sa cattivo